Motori accesi al 36esimo rally Valdinevole-Montalbano, appuntamento che per l'intero fine settimana interesserà le strade della provincia. La gara inaugurale del campionato provinciale ACI-Pistoia, articolato su tre manci in rally Valdinevole, in rally degli Abeti e in rally città di Pistoia, chiamerà al confronto 80 equipaggi. A fare gli onori di casa saranno i locali Luca Artino e Paolo Morici, entrambi su Skoda Fabi R5, attesi protagonisti di un evento che li vedrà contrapposti a Roberto Tucci, pilota livornese che al volante della Skoda Fabi R5 è tra principali indiziati per la vittoria assoluta. Un elenco partente di qualità con ben 15 vetture della classe regina, tra le quali spiccono la Skoda Fabia del Val di Nevolino Luca Fagni e gli esordi nella classe maggiore di Nico Signorini, Skoda Fabia R5 anche per lui, e Gianandrea Pisani, al debutto sulla Ford Fiesta. Un evento che abbraccia la solidarietà grazie ad un'iniziativa della scuderia organizzatrice Jolly Racing Team a sostegno dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Abbiamo fatto una maglietta dove ci sarà un disegno stilizzato dell'Arciano, perché comunque è il paese che ci ospita e che ci dà una grande mano su questa manifestazione, che sarà accompagnata da uno zainetto e poi dei gadget messi all'interno. Il ricavato di questa confezione più una parte dello shutdown verranno devoluti all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Il paio del 35 signoralli della Val di Nevolo!